Siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campionieri del Paglio siamo noi! Ancora Villa Fastigi, per il secondo anno consecutivo il Paglio dei Braceri va nelle mani della Contrada San Pietrana. Villa Fastigi che ha vinto il Paglio più bello, il Paglio che metteva in finale tutte le quattro contrade che hanno fatto la storia di questo evento. Siamo all'undicesima edizione e c'erano appunto in finale solo le contrade che questo Paglio l'avevano vinto. Villa Fastigi appunto la Tombaccia, Pantano e Santa Maria dell'Arzilla. Una finale davvero infuocata che premia dunque i Biancorossi. È stata una finale diversa dalle altre perché siamo finiti in finale con le tre contrade più forti di sempre del Paglio dei Braceri e quelle più titolate che hanno vinto il Paglio. Quindi è stata una sfida proprio all'ultimo secondo, all'ultimo metro e siamo riusciti comunque in un modo o in un altro a portare a casa la vittoria e riconfermare il gioco come l'anno scorso. Prima delle 18 quanto ci credevate? Ci abbiamo sempre diciamo creduto, nel senso non creduto, comunque puntato perché sapevamo che andavamo forte, che è una bella squadra molto affiatata. Una squadra che comunque oltre alla corsa ha sempre messo il cuore e la passione. Dopo come tutte le corse ci vuole sia la bravura che la fortuna. Oggi un'altra volta si è riconfermato entrambi e quindi dai, bella vittoria, siamo tutti contenti. Al di là dei vincitori è stata una festa, come sempre il Paglio dei Braceri ha smesso di essere una novità ed ora è una felice tradizione come ricordato da Massimiliano Santini che l'ha ideato questo Paglio e da Matteo Ricci che l'ha sempre appoggiato in questa avventura. Abbiamo iniziato 11 anni fa, io ero un ragazzo, oggi ne ho 41, però è molto bello vedere l'avvicendarsi anno dopo anno dei giovani. Ogni generazione comunque sia che viene sfiorata dal Paglio, viene diciamo in qualche modo inglobata da una marea di colore, da una marea di entusiasmo, dall'amore di questa città e quindi ogni anno la Rocca viene infuocata da questa felicità. Questi 11 anni ha recuperato un senso d'appartenenza ai quartieri che era scomparso e anche un grande senso d'appartenenza alla città. Una festa sportiva di grande intensità, è una festa di popolo colorata che davvero riempie il cuore per tutti coloro che la guardano, sia per i pesaresi che per i turisti. Quindi viva il Paglio, complimenti ancora a Villa Fastigi e soprattutto in bocca al lupo per la prossima edizione perché vogliamo che il Paglio continui a vivere sempre più sulle gambe dei ragazzi e della ragazza della città. E poi come ogni edizione c'erano i premi collaterali. Villa Fastigi non ha solo vinto il ciocco per i quattro giri attorno al fossato di Rocca Costanza ma ha vinto anche l'ambito premio per il miglior addobbo di quartiere. E poi il miglior bracere è andato alla novità, alla contrada di Pozzo. Il miglior giro nel miglior tempo sul giro attorno a Rocca Costanza l'ha fatto segnare la contrada di Santa Veneranda. E poi ancora c'erano i tornei collaterali, quello di Tiro alla Fune vinto da Santa Maria dell'Arzilla, quello di Bigliardino vinto da Santa Veneranda e poi le Miss. Miss Social l'ha vinta Miss Pantano ma la vera Miss Paglio 2023 è stata quella di Villa San Martino, Martina Simoni.